Punto 01 Nicchi, parere contrario, Commissione-Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Garavini, Matarrelli, ci siamo? No. Garavini, no. Dieni, no. Matarrelli, sì. Mantero sta votando. Colanin, no. Mantero. Eccolo. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'articolo 8, pareri. Prego, onorevole Gelli. Grazie, Presidente. 8.1 contrario, testo alternativo contrario, 8.2 contrario, 8.3 contrario, 8.4 contrario, 8.5 contrario, 8.6 contrario, 8.7 contrario, 8.8 contrario, 8.9 contrario, 8.10 contrario, 8.7 contrario, 8.1 contrario, 8.12 contrario, 8.13 contrario, 8.14 contrario, 8.15 contrario, 8.16 e 17 contrario, 8.18 contrario, 8.19 contrario, 8.20 favorevole, 8.21 contrario, 8.22 contrario, 8.23 contrario 8.24 contrario Grazie, onorevole Colletti Sì, essendo uno degli articoli peggio scritti che ho visto in questi due anni, ovviamente il soppressivo è favorevole, 8.1 l'alternativo è favorevole l'8.2 è favorevole 8.3 è favorevole 8.4 è favorevole 8.5 è contrario 8.6 è favorevole 8.7 è favorevole 8.8 è favorevole 8.9 è favorevole 8.10 è favorevole 8.27 è contrario 8.11 è favorevole 8.12 è favorevole 8.13 è favorevole 8.14 è favorevole 8.15 è favorevole 8.16 e 8.17 è favorevole 8.18 è favorevole 8-19 favorevole, 8-20 contrario